blu 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 questa è piccolissima blu 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 vedi questi punti neri? anche lui non si lava tanto i denti dopo la tua bocca e metti lo spazzolino dove l'hai preso nel suo posto ciao grazie di esservi con me oggi prima di cominciare questo video voglio dirvi due cose la prima è che questo video è pensato per essere un po' bambinesco non è per forza rivolto ai bambini assolutamente ma è pensato per far rivivere i ricordi l'infanzia tornare bambini essere rilassati come quando eravamo bambini e anche perché no per farci un po' passare la paura del dentista con questi anche strumenti tutti carini 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 l'ho provato, ho provato questo roleplay nella live in una live di Twitch ti è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di proporlo spero davvero vi piacerà questa modalità di fare roleplay la seconda cosa è questo video questa piccola parte di video è stata sponsorizzata da Koro Koro è un e-commerce che vende tantissimi alimentari fra cui frutta secca, snack, dolce, salati, cereali e oggi voglio farvi vedere il loro calendario dell'avvento vegano calendario dell'avvento in cibo c'è compo migliore non lo so mi piace tantissimo il fatto che ci sono tanti assaggi in modo da assaggiare un po' di tutto e sapere cosa ti può piacere di più che si trova sul sito se volete spoilerarvi il contenuto potete trovare tutto ciò che è contenuto all'interno del calendario dell'avvento vegano di Koro sul loro sito quindi vi lascio il sito di Koro qui giù e vi lascio anche il mio codice sconto del 5% Chiara Colosa ho scelto io questo nome grazie però per aver sponsorizzato questo video e andiamo ehi ciao piacere io mi chiamo Chiara come stai? hai un po' paura? ma come? no non c'è da avere paura assolutamente no non c'è da avere paura assolutamente allora se una persona ha paura di essere qui viene in soccorso Bebippo sai chi è Bebippo? non lo sai? te lo presento Bebippo è lui eccolo qua ma in che senso viene in soccorso Bebippo? Bebippo ci aiuterà a capire cosa andrò a fare anche sui tuoi dentini ok? quindi prima tu lo guarderai su Bebippo te lo spiegherò e poi andrò a fare su di te ok? in modo molto semplice molto delicato e sarà una cosa molto veloce bene per prima cosa mi metto i guanti preferisci che ti parli con un faccio ancora più bassa? ok? ci si prova ci prova l'altro guantino mi tolgo anche l'anello ecco allora vedi questi sono semplici semplici guanti a che cosa mi servono? mi servono per avere le mani pulite 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 quando vado a toccare i tuoi dentini ok? quindi non lo posso fare con le mie mani senza guanti ma è tutto qui ok? è tutto qui bene adesso dove Bebippo? è qui allora mi hanno detto un uccellino mi ha detto che ti piace il cioccolato ti piace il cioccolato e ti piacciono le caramelle ti piacciono anche le caramelle quali? eh sì quelle effettivamente sono buone ma questo uccellino mi ha detto anche che dopo che tu mangi le caramelle ti lavi i denti eh no e questo uccellino era un po' arrabbiato perchè diceva cavolo ma dopo li vengono legali se no si lava i denti come a Bebippo è arrabbiato anche con Bebippo perchè a Bebippo a Bebippo piacciono tantissimo le caramelle ma vedi questi punti neri anche lui non si lava tanto i denti dopo ok quindi ogni tanto una caramella ci sta se ti comporti bene se ti va se vuoi festeggiare con gli amici ok una caramella ogni tanto ci sta ma è importante lavare i denti ma ma è importante lavarsi i denti dopo aver mangiato i dolcetti il cioccolato la caramella la torta ok in questo modo i denti rimangono belli sani allora andiamo a vedere Bebippo cosa fa allora 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 come li di Bebippo un po' i dentini questi dentini qui sono bianchi sono tutti i dentini sani tutti i dentini che si è lavato bene per oggi sono questi dentini qui che invece non si è lavato così bene e questi dentini qui purtroppo li sono cresciuti delle cameriere esatto le stesse che sono cresciute da ok quindi come funziona come faccio a togliere le carie a Bebippo e poi a te andiamola a vedere insieme userò questi tre stoni fine allora questo è uno specchietto per aiutarmi a vedere meglio io vado con questo specchietto a riflettere i denti come vedi il dente riflesso è un po' triste si lo vado a riflettere qui e questo mi serve solo questo nient'altro nient'altro poi questo strumentino non devi avere paura del suono che fa perchè tu non sentirai assolutamente niente promesso promesso con questo strumentino faccio così ok tutto qui tutto qui e cosa vado a fare lo faccio perchè magari questa carie è un pochino più in profondità o comunque vado a fare a guardarla bene questo perchè perchè poi sarà questo strumentino qui questo strumentino qui sembra è un bel uncino è un bel uncino di capitano uncino esatto e con questo uncino andrò a zack 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 per rilevare e togliere la carie tutto qui e poi andrò a mettere un po' di pasta per sostituirlo nient'altro tu non sentirai assolutamente niente prima di cominciare prima di cominciare però ti faccio vedere come ci si leva bene i dentini ok qui abbiamo uno spazzolino vediamo com'è il tuo spazzolino di che colore è bellissimo e dentifricio adesso cosa facciamo per prima cosa mettiamo il dentifricio mettiamo il dentifricio sullo spazzolino si guarda per me questo dentifricio è un particolare alla fragola dopo che abbiamo messo il dentifricio sullo spazzolino cosa facciamo lo sfreghiamo bene sopra i dentini sia nei dentini sotto sia sui dentini sopra poi la cosa importante è anche lavarli bene intorno qui lavarli bene nel lato esterno all'interno così facendo anche un po' questo movimento questo qui così e anche all'interno quindi tutto qui tutto tutto qui dopo ti regalerò delle carte queste qui molto preziose molto belle che puoi tenere di fianco al tuo lavandino in cui poi passiamo tutte le istruzioni tutto ciò che ci dice bebì hippo ok bene io direi che sono pronta a cominciare tu come stai? va meglio ti è servita questa spiegazione con bebì hippo? hai visto che bebì hippo è felice sorride ok non succede nulla ultima cosa che però devo fare io devo mettermi la mascherina perché andrò vicino vicino posso? andrò vicino 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 per vederti i dentini per vederteli meglio ok bene ti apposso anche un pochino la seggialina tutto bene? bene bene ci siamo ok partiamo con questo strumentino qui apri bene 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 la bocca ok e e a némovi trattati bene un altro pochino ma quasi finito ok vado a vedere un pochino ci vedete ci siamo andiamo a prenderla io ho fatto adesso prima di passare prima di passare al secondo e ultimo dentino ti metto questa pastina per riempire il pochino che ti ho fatto dove c'era la cara vai così esatto muovi i dentini ok adesso facciamo un secondino l'altro dente che dovrebbe essere ancora più veloce e saluta è laalleria ah perfetto vedo benissimo questa pronta carica togliamo via subito la puliamo la puliamo oh quasi fatto non ti preoccupare tutto bene ok ora andiamo un po' un po' di pastina adesso fai così ok chiudi, apri la bocca perfetto adesso ti rialzo la sedia andiamo a ripassare le regole andiamo a ripassare le regoline che ci siamo detti prima e poi puoi andare tutto qui esatto bene 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 ecco 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 bene 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 ecco ecco io io ho fatto hai visto che non hai sentito niente esatto ed è durato pochissimo esatto è andato tutto benissimo e adesso non hai più la carie però per ritornare il meno possibile qui ok devi lavarti i dentini bene e adesso la ripassiamo con queste carte che poi ti porterai con te ok vengo di fianco a te così le guardiamo insieme allora posso venire qui dietro con te ok la 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 prima carta dice brush your teeth with baby hippo spazzoliamoci denti con baby hippo baby hippo baby hippo ci dice spazzola sia i denti di sopra sia i denti di sotto sia i denti di sotto esatto come ho detto all'inizio sopra e sotto tutti quanti la seconda cosa che ci dice hippo è raggiungi raggiungi i molari dietro dietro su tutti i due lati quello che ci siamo detti all'inizio quindi anche all'interno e anche all'esterno i molari sono i dentini più grandi in fondo alla bocca quelli con cui mastichiamo il cibo terza cosa che ci dice baby hippo non dimenticarti di lavarti la lingua anche quindi ti dice con lo spazzolino lavati anche la lingua in modo a togliere tutto tutto lo sporco tutte le caramelle e poi ci dice sciacqua la tua bocca e metti lo spazzolino dove l'hai preso nel suo posto ecco qua guarda che bel sorriso che adesso bebi hippo e infine ci dice ricorda la regola del 3 3 3 spazzola di denti per 3 volte al giorno entro 3 minuti da quando hai mangiato per 3 minuti la regola del 3 3 volte al giorno entro 3 minuti per 3 minuti finte queste io le lascio a te si così puoi ripassarle quando vuoi d'accordo benissimo io ti ringrazio davvero tanto sei stata bravissima veramente uno dei pazienti migliori che ho avuto davvero sono contentissima di come è andata però spero che tu segua ciò che abbiamo detto segua ciò che ha detto bebi hippo non l'ho detto io bene dai adesso ti metti un piccolo premio ciao ciao ciao